Sono 177 nuovi casi di Covid-19 registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Un aumento rispetto agli 81 di ieri, ma resta sostanzialmente immutato il tasso di positività sui test analizzati, il 2,3% rispetto al 2,2 di ieri, visto che i tamponi processati sono 7.690, di cui 4.962 molecolari, 2.728 antigenici. I 177 nuovi positivi hanno età compresa tra 7 mesi e 98 anni e portano il bilancio totale delle persone contagiate dal coronavirus a 70.783 dall'inizio dell'emergenza. Circa la ripartizione tra province dei nuovi casi sono 56 quelli registrati nel Chietino, 52 nell'Aquilano, 42 nel Terramano e 22 nel Pescarese. Per 5 sono ancora in corso verifiche sulla provenienza, mentre non ci sono nuovi casi da fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.391, con i 6 nuovi casi registrati, di cui 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Terramo e 2 in provincia di Chieti. Del totale odierno, un caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. Continua a scendere il numero dei ricoverati. Sono 42 in terapia intensiva, meno 3 rispetto a ieri, con un nuovo ingresso. Sono 389 quelli ordinari, meno 11 rispetto a ieri. 8125 sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza della ASL, meno 44 rispetto a ieri. Aumentano i dimessi guariti di 229 unità, sono 59.926. E questo fa scendere il numero degli attualmente positivi a 8.556, meno 58 rispetto a ieri.